Gloria a Dio. Ci sono quelli che non hanno mai avuto il timore del Signore, non hanno mai avuto il timore di Dio, allora tu devi iniziare ad avere il timore di Dio. Devi chiedere a Gesù degli umilianti, anche con le faccia a terra, metterti in ginocchio, non importa quello che ti dice la persona a fianco, non lo guarda a Cristo. L'autore e compitore della nostra fede, ci sono poi quelli che un tempo, e ce ne sono diversi, che Dio che ha ritagliato, ha vissuto fratelli, giovani, meno giovani, battezzati con lo Spirito Santo, predicavano insieme, fuori, servivano e adesso sono nel mondo. Sono lontani da Dio, stanno a fare il video su TikTok, stanno a servire il mondo, il denaro, le cose, il terreno, i materiali, e hanno perso il timore di Dio. Alleluia! Alleluia! Amén. 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 Esponerà una tromba e Lui ci prenderà con sé. Alleluia! Alleluia! E noi saremo trasformati. Alleluia! il suo pastore lo sposo della chiesa il regno ma per quelli che temono il suo nome questa sera in che categoria siamo quelli che hanno perso il timore di Dio quelli che non hanno mai avuto dove siamo? questa sera riflettiamo che ognuno di noi davanti al Signore con sincerità e te lo dico nella madre di Dio non farmi bloccare da niente perché vengono i pensieri non pregare non alzare la voce non alzare le mani che ti vedono lascia bene gloria a Dio alleluia amén amén non per chiunque dice io sono evangelico non per qualunque tipo di evangelico credente e decostale quello che vuoi ma per quelli che temono il nome del Signore amén 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 gloria al Tuo nome Signore alleluia gloria a Tu che rai a barò san cristo da sto soba rimossa marodello da sto sei gloria a jesus gloria al tuo nome signore vitu che sancherevas e cirovas e gloria alleluia gloria al tuo nome gesù ma dice la parola quando sono levo allora sono fuori questa sera dici forza chiudi i tuoi occhi chiudi i tuoi occhi alleluia metti in un migliore con il tuo nome e gloria a questa sera alleluia 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 cristo barò san ciaule del leccio amperato alleluia 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 Grazie a tutti. 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 Ave la voce d'ora dell'umia. Gloria a tu che è Cristo, barossa e aia! Ave la voce d'ora dell'umia. Ave la voce d'ora dell'umia. Ave la voce d'ora dell'umia. Sì, sì, sì. Gloria a Dio fratello, alleluia Gesù, gloria al tuo nome Signore, alleluia, alleluia Gesù, gloria al Padre o Signore, ricevo questa benedizione o Signore, nel nome di Gesù Cristo o Signore, ricevo una nuova benedizione o Padre, ricevo una nuova unzione o Signore, oh sciorra con la barra weica, quella canda barra sciorra con la tinga barra di Gesù, alleluia, gloria al tuo nome Gesù, ti ringrazio Signore per la nuova unzione o Padre, ti ringrazio Signore nel nome potente di Cristo Gesù, alleluia, alleluia, gloria al tuo nome o Signore, oh Padre ti chiedo alla vita di mio fratello, Signore, conosci il tuo cuore, i suoi pensieri, oh Signore, e tu conosci la necessità del tuo cuore, oh Padre, ma come un padre pietoso verso il suo figlio, io so che tu sei pietoso verso il suo servo, oh Padre, benedici la sua vita, oh Signore, benedici la sua vita, nel nome potente di Cristo Gesù, e benedici la sua vita, nel nome potente di Cristo Gesù, alleluia, gloria al Signore, amè. Ave la pezzo, come una mente pirata, Ci gloria. Andrè, tra io, un minuto vicino. Alleluia, gloria al suo nome, Signore. Gloria al Ducche Cristo, parò San Rea. Ci gloria, ma tra io, un minuto vicino. Sì, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, Cristo. L'unico vicino, Raja. Parò San Amperato, ciavole del Vlesco, alleluia. Gloria a te, oh Signore. Angla, Giro, trono, Raja. Angla, Giri, gloria, Raja. andrà tutta il Cristo per avversare te l'è, Raya e verrà tutta il Cristo per avversare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.